Musica Come amici noi siamo i due bomber al freestyle Bombers quest'oggi siamo caldi, siamo caldi Tanto fa caldo quest'oggi perchè c'è una nuova super sfida Con un nostro ex calciatore Ma proprio piccolino, era piccolino Quanto basilare, una giovane promessa E lui si chiama il buon piccolo Matteo Ma non sei più piccolo Certo di te è più alto Non sei più piccolo Cioè ragazzi, fai le gambe Ragazzi, sono erzanetti abbiamo qua Allora ragazzi era piccolino Ma ricordiamo, quanti anni hai Matte? 14 Dove giochi adesso? 200 Cosa fa la prima squadra? 13 Attenzione Ne vedremo delle belle Un bel like, un bel commento Ma soprattutto l'Instagram di Matteo Qua sotto in descrizione Passate a trovarlo Ci sarà una foto con i due bomber molto particolari Io sarei curioso Le differenze che ci saranno Tra un calciatore di 14 anni Contro uno di 30 Sei pronto a scoprirlo insieme a noi? Sì Andiamo col video Scappano tutti da di qui con me Ragazzi tutto pronto Crossbar challenge Il primo che arriva a 5 punti Si porta a casa questa prima sfida Delle 3 totali Già c'è sfida in corso Attenzione Mi ricordo un'immagine del genere Quando Matteo arrivava qua Chi parte? Io Una sfida Finché migliore Matteo Friottino Zero zero Vai 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 Vamos Tutti 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 i tuoi Bello Però Cadibri un po' di più La forza è meglio Eh Matteo Sì Aspetta aspetta l'ultima Nonna Chiudi la porta Io Matteo Chiudi chiudi Non so il pidino mi ricorda molto quello del centrocampista Quindi è un po' più forte Però un po' più di precisione Sì Che non lo fai? Quante? Punta Ecco Ma come è? Ma la squadra io mi ricordo che faceva il centrocampista Cambiato Ma forse non è la sua arma micidiale la crossbar challenge Oh E così Scaldiamo Scaldiamo il pidino ragazzi Eccolo lì Sì Vada 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 Ah Eccato Eh 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 no Due Eh 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 Lascia Lascia Eh no no Matteo Te lo dedico Perché ragazzi Ah però era uno scavetto fatto per bene Tu mi hai tolto un pallone e ti tolgo anche io un pallone Eccolo Eh no Eh Ah Matte che succede qua al campo Faccio una cosa Tu tiri e io le faccio la ribattuta Dai La chiudiamo se la chiuso Vai 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 ci sono Vabbè Oh Matte mi dispiace Ti voglio bene comunque Ci sono io Sono pronto vai Eccolo No Oh Non è così ragazzi Per poco lo stavo prendendo L'ho rischiato Piccolo Matteo Tei a due contro quattro Vai Eh ho otto palloni eh Vai Possibilità è alta Possibilità è alta Ci aspettiamo tanto da te Mella forte Vai Matteo Che è tua Concentra Bravo Bella Così bravo Così Eccola lì Oh Ah attenta la potenza Niente Eccola lì Bella Oh Eccola Sì Oh Questi due palloni valgono doppio Oh 4 a 4 Ultimo tiro Può volere la vittoria Vabbè Matteo 4 a 4 Mi dispiace È il momento di chiudere la sfida In questo momento Like Commento La chiuderemo Sì o no I nostri crossbar Varranno 0,5 No no Non l'accetto Non l'accetto Non l'accetto Non l'accetto Non l'accetto Non l'accetto Ragazzi c'ha carattere C'ha ragattere Carattere ragazzo Sì Quello Matteo La prima È sempre quella buona Ah Ti sta sfidando Dic Ah Matteo Ma io Voglio portarmi a casa La sfida No 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 Attenzione Eh no Eee Doppio Così Matteo Doppio Matteo Questo è per te Porco Io voglio inferire Matteo Mi dispiace Ma Uuu Peccato Gran gol Noi stiamo assolutamente scherzando col piccolo mattinino La prima sfida ce la portiamo a casa Ma perché lui Razionalizza tutto quanto E fa esplodere nella sfida dopo Noi sappiamo La seconda sfida va per te Vogliamo vederti assolutamente Come momentaneamente 1 a 0 Continuate a commentare Passate al suo instagram E andiamo a vedere la prossima sfida Vai Vai A te Seconda sfida ragazzi Qua Molto importante Cross lateralmente Due persone che si affrontano in aria Bisogna o Dribblare l'avversario Oppure spizzarla subito E segnare Col nostro portiere in porta Courtois Ma attenzione Come ospite speciale Dal momento che Ultimamente arriva da diverse panchine Abbiamo il nostro CR Spera A crossare Grande Ciao Luca Lu A meno il cross Fadi bene Il cross Direttamente in testa La palla fuori Eh ragazzi Qua vedo un attimo Un po' Un magheggio sotto E palla direttata Proprio su Matteo Vai Siamo Stiamo a prendere posizioni C'è il cross in aria L'anticipo Davide gioca di astuzia C'è il cross Anticipo No Attenzione Davide Tutto solo Quanto è colpa Attenzione Pallare No 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 Rosso E Davide tutto solo Eh sbaglia Palla attenzione La palla è ancora buona Davide Mi ruba la palla a Matteo Matteo ancora lì Ancora lì Attenzione Davide recupera la palla Potrebbe affrontarlo Uno contro uno Doppio passo Sulla porta sul sinistro Eh 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 Ho visto un colpo secco sulla tibia Ma andiamo in replay Spizza Matteo Ma nulla Male male eh ragazzi Male male 1-0 per Matteo Ma non si sbaglia sotto porta così eh Cambio di ruolo Cross La mette via Aia ragazzi Qua la zampa si fa sentire Chiama il VAR Allora mandiamo un po' più indietro il video Un po' più indietro Un po' più avanti Eh no scusami Un po' più indietro Ok ecco questo è il momento Ok sì sì Ragazzi BAR Ma cosa Ma cosa Ricone Con Matteo in realtà ci potrebbe portare sul 2-0 Attenzione ma non sbaglia Eccolo lì Eccolo lì Eccolo lì E' buona E' buona E' buona Che cosa è buona dai gioca Buona Non mi riesce Non prende attraverso Non prende La mette in mezzo C'è mischia in aria Matteo Ed è il gollo Però questa Questa ha preso la guardia Ma ha spinto Però è il gollo Attenzione siamo al terzo cross Sul primo La mette su Zap No no rimane buona Il buona è buona Il Zap la vuole a prendere Matteo Vediamo Un po' di skill Viaggiano Sulla parte destra del campo Attenzione Kultuara sta dal portiere È lì È lì Ah l'ha saltato L'ha saltato La mette Kultuara la palla è buona Ragazzi la palla è buona Scegla troppo Scegla troppo adesso Quarto cross Scegla di strano La mette sul secondo palo Zap Spizzate E' qua Due a uno Attenzione Altro cross Per il giro Stare sul primo palo T'apri spalletta La mette dentro Carin the dream Sì Sì Vai Tutto pronto Si parte Il primo stop di league La posiziona E calcia Fuori Eccolo lì Matteo la stoppa Al limite Eccolo lì Altro cross E altro giro C'è al limite Quasi dentro Qua di dentro Ma fuori Il destro che non utilizzerò mai E' secondo tiro anche Del buon Matteo Vediamo lo stop Bellissimo Troppo forse Troppo forse Palla alta La butta dentro E' Matteo Fai con lo stop Sceglie a lente Gran gol Gran gol Ragazzi purtroppo Ha superato di tanto così Se hai visto qua Abbiamo messo il videomaker al posto Eccolo lì Ragazzi cross Siamo ancora a zero Poetaneo Stop Palolettino E Matteo Oh fuori Metti adentro Metti adentro Metti adentro Metti adentro Che buona Bravo Tira Eccolo lì Bello Grande Matteo Stop Che sfiga ragazzi Altro c'è l'altra corsa Lunga Metti adentro Metti adentro Bravo Bravo Entra Ma la palla mi scende Eccolo lì La piazzata No E ragazzi Pali traverse con i due bomber qua Quest'oggi è tutto così E altro cross Matteo Sempre fuori l'elemente Ma la mette dentro Buona La bomba Gol E gol E chi viene questa? Bravo Matteo Dai No ragazzi non entra Volendo ma non entra Volendo ma non entra Ultimo che lo ha attenzione Stop La mette dentro Al limite Al limite Vince Matteo Il piccolo Matte Però è stata una sfida Davvero molto combattuta Bravo il piccolo Matte Ragazzi è cresciuto Lo vedremo forse in serie C Lo vedremo forse Anche un po' più in alto Commentatelo qua sotto Se le sue qualità Che valgono Commentate se volete vedere Una FC Bomber Con l'attaccante D'aggiunta Forse Mi raccomando Qua sotto in descrizione Il canale Instagram Del buon Matteo Qua sotto iscrivi al canale Da te le adesso Altri due video E se vuoi essere un bomber Dai iscriviti sul canale Dei due Bomber Yeah Vamooo Vai 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 Dai iscriviti sul canale